mi hanno preso per il culo fino ad oggi. Secondo, cari signori, io penso che i miei nipoti non possano diventare migranti. Io penso che i miei figli non devono andare a crescere negli Stati Uniti. A me fa schifo l'idea che questa nazione si spopoli a vantaggio di altre nazioni del mondo. Io penso che il popolo italiano sia veramente il popolo più intelligente del mondo. Solo che non dobbiamo mandare gli ultimi, i più cretini a guidare la nostra vita. E allora, signori, ecco sfacciataggine che qui dal Reggio io parto per una chiusura di una campagna elettorale europea dove sinceramente ci hanno chiuso le televisioni, ci hanno chiuso la radio, ci hanno chiuso i quotidiani, nemmeno ci hanno mai sondato. Chissà, signori, i giovani che voteranno quest'anno per la prima volta saranno circa 400.000. 400.000 giovani rappresenterebbero circa l'1% del valore elettorale italiano. Sapete che io ritengo che noi, forse, quei 400.000 voti li prenderemo. Prenderemo anche tra tre anni anche altri 400 e 400, quindi forse un milione e due, un milione e trecento mila voti. Vedete, signori, io non conto le percentuali contro ogni uomo che ha intenzione di cambiare qualcosa in questa nazione. Non importa essere 60 milioni di idioti per cambiare questa nazione. Basta essere un milione alla fine, un milione e mezzo di persone giuste.